La Camera di Commercio è sempre vicino ai giovani, universitari, studenti come in questo caso qui alle Capezzine, perché? Noi siamo vicini ai giovani perché rappresentano di fatto il nostro futuro. Io credo che un paese che non sta attento ai propri giovani ovviamente non è un paese che pensa al proprio futuro. Sappiamo quali sono le difficoltà che i giovani oggi hanno nei confronti del mondo del lavoro. La nostra provincia è una delle province che sta forse meglio da questo punto di vista, ma insomma la disoccupazione giovanile tra i ragazzi dai 16 ai 29 anni è sempre del 27,7%, quindi sono ancora tanti i ragazzi che sono in fase di prima occupazione. È ovvio che se ci rapportiamo a realtà diverse dalla nostra, dove raggiungiamo punte incredibili, basta è sufficiente ricordare che la media nazionale è del 47%, quindi ci sono dei posti dove si supera abbondantemente il 50% del tasso di disoccupazione. La Camera di Commercio di Arezzo quindi è particolarmente attenta al sostegno dei giovani, quindi delle scuole secondarie superiori, sia tecniche ma nello specifico anche quelle come l'Istituto Tovegni dedicate al mondo dell'agricoltura e poi è anche attenta al mondo delle università. E noi abbiamo investito moltissimo e stiamo collaborando e lavorando tanto con l'Università di Siena. Questo convegno è stato costituito insieme al Lions Club e è il continuum di tutta una serie di iniziative che l'Istituto Tovegni sta portando avanti, anche in collaborazione con la regione toscana. Questo per far sì che tra la scuola e il mondo del lavoro possa esserci meno distacco possibile.